Allora, reduci già da un oro conquistato a Milano durante le selezioni nazionali per i Young Lions, Olivero Piccoli e Giorgia Fattoracci di MC Saci Milano hanno bissato qua a Cannes con un bronzo, sempre nella categoria cyber. Giorgia, in quale contesto e che brief avete avuto per questo nuovo vostro prodotto? C'è stato richiesto di dare un banner per la fondazione di Bill & Melissa Gates, nello specifico per sensibilizzare il web al problema della mancanza di vaccini nei paesi sottosviluppati, quali Africa, India e appunto la richiesta specifica era fate parlare le persone, fateli capire che anche soltanto parlandone è già qualcosa, perché più se ne parla più qualcuno ci ascolterà, più qualcuno ci aiuterà, quindi fateli parlare e fate informati del problema. Questa era la richiesta chiara e semplice. Oliviero, come si è esplicitato il vostro prodotto? Noi abbiamo puntato su un'idea abbastanza semplice, visto che comunque il brief prevedeva dei formati banner abbastanza standard e ci siamo concentrati su un banner molto semplice che avesse un'idea abbastanza diretta che potesse colpire innanzitutto, visto il brief, comunque il target, che erano i giovani e più che altro anche la giuria, visto che comunque è una competition e doveva andare il meglio possibile. Il banner consisteva in una striscia in cui erano disposti un bambino a sinistra e un vaccino a destra e digitando nel campo di testo posizionato al centro il testo scompariva e venivano avvicinati il bambino, ovvero il problema, alla soluzione che è il vaccino. Molto semplice. Sì, ce l'avevamo ripromesso dall'inizio, semplici, chiari e diretti e così è stato. Cosa questo bronzo, cosa vi porterà al vostro banner, dove verrà pubblicato? Dateci un po' più di informazioni. Sì, sinceramente stiamo scoprendo tutto giorno per giorno, è una situazione nuova per noi. Il banner sicuramente verrà messo nel sito. Sì, il sito di Cannes. Il sito di Cannes e così viviamo alla giornata, stiamo scoprendo tutto come qualcosa di nuovo. Che effetto fa la vostra età? Voi ho collezionato già un oro a Milano, sempre per un banner, mi ricordate, vero? Sì. E adesso un bronzo. Cioè siete giovanissimi, quanti anni avete? Io 23. Io 24. Appunto, quindi che effetto fa avere già un palmares così nutrito? Vabbè, bello, ancora piano piano cresceremo ancora di più, dai, ci crediamo. Adesso sappiamo che è possibile, perché poi non pensi, la vedi come una cosa lontana, la canna, la vedi come una cosa lontana. Invece, quanto pare, se ti impegni e non ci pensi troppo perché noi non ci abbiamo pensato troppo, penso divertiamoci, poi le cose succedono e dici, ah ok, allora era fattivo. Prossimi progetti in cantiere? Un sacco di progetti, un sacco di lavoro in agenzia come tutti i giorni e andremo avanti con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo di prima. Quindi magari l'anno prossimo invece che nei young vi troveremo già in mezzo agli adulti? Chi può dirlo. Va bene, grazie ragazzi. Grazie mille.